You're tearing me apart! What? You say one thing, he says another, and everybody changes back again! James Dean diventa celebre da un giorno all'altro con due film, Gioventù bruciata e La valle dell'Eden. Più che il giovane idolo delle donne, diventa il simbolo dell'angoscia ribelle degli adolescenti. Termina soltanto un altro film poche settimane prima di morire in un tragico incidente stradale, nel settembre del 1955. Il gigante, che rappresenta la caduta dell'idolo, ha un immediato successo e vede la partecipazione di Elizabeth Taylor e Rock Hudson.